The Building, hotel 4 stelle al centro di Roma, presenta Gourmans, ristorante immerso in un'atmosfera avvolgente e suggestiva, dove gustare il meglio dei sapori mediterranei. Un'ampia scelta di cucina internazionale ed etnica, con materie prime di ottima qualità, magistralmente interpretate dallo chef Andrea Cossalter. Ristorante Gourmans, presso Hotel The Building, in via Montebello, 126, Roma. Ristorante Gourmans, presso Hotel The Building, in via Montebello, 126, Roma. Tiberia Hospital, ospedale polispecialistico privato, accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale. Tecnologie diagnostiche di ultima generazione e a misura di paziente. Breast Center, per la diagnosi e terapia del tumore al seno. Chirurgia generale, mini-invasiva per un rapido recupero. E Dental Unit, la sicurezza dell'odontoiatria in ospedale. Tiberia Hospital, per un approccio completo alla salute, al servizio di ogni persona. Tiberia Hospital, per un approccio completo alla stessa. Buonasera, ben trovati, un nuovo appuntamento di Terzo Millennio, oggi una puntata importante perché continua il nostro viaggio settimanale alla scoperta delle magie del corpo umano. Siamo complicati, dobbiamo trattarci bene, è l'unico abito che non possiamo cambiare, quindi è fondamentale poi seguire delle linee rigorose e soprattutto cercare in qualche modo di portare avanti una giusta prevenzione, che è il modo migliore fondamentalmente, prevenire è meglio che guarire, quello che diciamo i nostri e i vostri nonni. Pazienti in regime ordinario e pazienti complessi, prestazioni di controllo e interventi più specifici, tecnologie d'avanguardia con maggiori benefici post intervento, sono moltissimi gli ambiti trattati nel servizio di Odonto Tardine. È fondamentale questa cosa perché oggi parliamo appunto dei nostri denti che sono importantissimi, assolutamente importantissimi e scopriremo con il dottor Gianluca Delli Ficorelli del Tiberia Hospital, a cui DOL è ben arrivato, e con il dottor Lino Giordano, buonasera anche a lei, l'importanza ovviamente dei denti. Non è solo un'importanza estetica, è anche un'importanza fondamentale, Allora, innanzitutto cerchiamo di dare una panoramica. I denti, soprattutto tutta la parte della masticazione, per farla semplice, la nostra bocca, è fondamentale che funzioni bene, perché da qui possono partire decine, centinaia di patologie. Assolutamente sì, come diceva giustamente, come accennava lei, giustamente i denti non sono solo importanti da un punto di vista estetico, ma soprattutto da un punto di vista funzionale, perché l'organo masticatorio fa parte di un organo, di un apparato molto ben più complesso, l'apparato digerente. Quindi se i denti sono in ottimo stato di salute, questo ci permette di avere una masticazione più efficace e di conseguenza una digestione più efficace. Ma non solo, dalla bocca possono partire tante patologie collaterali, ad esempio la presenza di batteri nel nostro cavorale può provocare in alcuni tipi di pazienti dei seri problemi a livello sia cardiocircolatorio che proprio a livello dell'organo, del cuore stesso. Mi scusi, faccio un po' il paziente, perché poi siamo curiosi, anche tutti i nostri amici da casa poi sono persone assolutamente curiose che cercano, vedono, girano e nei meandri poi di internet ti esce la qualunque, no? E quindi noi cerchiamo proprio di, in questo viaggio, di settimana in settimana, di dare delle specifiche con i professionisti, perché poi tu leggi delle cose e magari ti portano in direzioni che non sono giuste. Allora, dai denti, dalla masticazione, appunto come ci ha detto lei, possono nascere tantissime patologie, patologie gastriche, cardiovascolari, per non parlare poi di tutto il discorso posturale. Prego, veramente è l'inizio della nostra salute, è una delle cose più importanti, uno spesso e volentieri sottovaluta questo apparato, questo apparato invece è fondamentale e tantissime patologie, questo deriva anche un po' dalla medicina cinese, perdonatemi se ogni tanto mi permetto con queste cose, ma un pochino studiato, dove questa parte è assolutamente fondamentale. Allora, dottor Giordano, quanto è importante in qualche modo lavorare sulla prevenzione e contestualmente quanto è importante poi trattare bene questa parte e se ci sono delle problematiche intervenire subito? Allora, la prevenzione sia per quanto riguarda il distretto del massiccio facciale che per quanto riguarda tutto il resto dell'organismo è fondamentale in qualsiasi branca della medicina. Per quanto riguarda la nostra branca di specializzazione è fondamentale delle diagnosi precoce intervenire tempestivamente qualora lo specialista si accorga di anomalie che ci possono essere... Allora, una parentesi, così andiamo per ordine, cerchiamo di capire bene. Allora, una persona curiosa oppure che si tratta bene, quindi che fa dei controlli periodici, oppure che inizia a sentire una serie di piccoli fastidi, masticatori o altro, viene da lei. Lei che tipo di controllo le fa? Cioè che cosa vede per primo? Cosa verifica? La masticazione, lo stato dei denti? Allora, innanzitutto la prima cosa da fare è quando si presenta un nuovo paziente in studio bisogna conoscere il paziente e capire i problemi del paziente. Quindi dapprima va fatta... Quindi conoscere il paziente però, mi perdoni, in generale... Va fatta per conoscere il paziente, io intendo che va fatta una corretta anamnesi del paziente e quindi conoscere anche patologie pregresse del paziente stesso che possono portare poi alla conclusione di una diagnosi finale. Dopo aver raccolto attraverso un'anamnesi, fatto una serie di domande al paziente, poi si passa alla visita in senso stretto. Nel nostro caso poi si fa una visita completa del cavorale, oltre a... si controllano i denti, si controllano i tessuti molli, si controlla la lingua e si controlla il corretto assetto del macellare superiore e del macellare inferiore. Cioè se mastico bene perché... Esatto, perché dobbiamo considerare che la bocca è una sorta di contenitore come una scatola e quindi il macellare superiore deve chiudere perfettamente col macellare inferiore. Una domanda. Mi diceva, quindi fa questo verifica, questo controllo di una giusta masticazione e poi... Perché? Perché quando si verifica un... quando praticamente non c'è una corretta masticazione, quando le due arcate non chiudono correttamente, si potrebbe verificare un difetto di occlusione. E questo difetto di occlusione, considerando che la mandibola viene considerata come la prima vertebra della colonna vertebrale, si potrebbero verificare una serie di problematiche che si possono ripercuotere in senso discendente lungo tutta la colonna vertebrale. Allora, la mandibola, la prima vertebra, ci ha aperto assolutamente un mondo per capire appunto quanto poi è fondamentale e importante. Una mandibola che non allineata, mi perdoni, io parlo in modo assolutamente semplice, dottor Ficorelli. Da lì possono nascere tutta una serie di problematiche anche importanti sul resto della colonna vertebrale. È la prima vertebra, insomma. Allora, qui apriamo però un argomento molto, molto ampio. Oggi il mondo odontologico si divide quasi in due fazioni. Cioè, chi asserisce che dalla mandibola possono, dalla occlusione, possono, quindi dalla malocclusione, possono derivare dei problemi discendenti sulla colonna vertebrale e quindi causare problemi posturali, che al contrario dice che questi problemi sono dell'ATM solo di origine centrale e che non sono connessi a problemi posturali. Va detto questo. Non andate a ricercare su internet, ma affidatevi a medici specialisti. È chiaro. Perché la letteratura nazionale e internazionale al momento non ci sono evidenze scientifiche sulla correlazione fra questi due tipi di problemi. Mentre c'è evidenza clinica che questi problemi possono essere correlati. Quindi risolvendo dei problemi all'ATM, se sono presenti, ne beneficia tutta la colonna vertebrale e di conseguenza tutta la postura del paziente. Mi sembra qualcosa di assolutamente importante. come è altrettanto importante la prevenzione. La prevenzione noi la consigliamo in modo trasversale. È fondamentale che uno, come una macchina, perché è la cosa che mi fa impazzire, noi trattiamo la nostra macchina e ogni sei mesi cambi l'olio, cambi l'acqua, controlli la pressione delle gomme e fai tutta una serie di cose che sono di semplice manutenzione. Le stesse persone, mi perdoni, poi in realtà fanno la manutenzione alla macchina, fanno la manutenzione alla qualunque e non la fanno a se stessi. Cioè questa è una follia. Allora lei ha aperto, veramente mi ha dato un assiste meraviglioso. Non preparato, bisogna dire che non è preparato. Noi del nostro team, insieme al dottor Giordano, quando riabilitiamo una paziente, spieghiamo sempre che noi possiamo fare il miglior lavoro del mondo, più perfetto, più preciso, più estetico, ma questo lavoro va mantenuto. E facciamo proprio l'esempio delle macchine. Noi possiamo vendere, adesso senza fare pubblicità le macchine, una macchina magari meno performante, ma se mantenuta, come da protocollo, se fatti i giusti tagliandi, così come la bocca, se fatti i controlli semestrali o annuali, l'igiene professionale, come indicato dall'igienista, i nostri lavori possono durare veramente, ci possono togliere tante soddisfazioni e avere una prognosi a lungo termine, veramente per tanti, tanti anni. Implantologia, dottore, ci spiega nel dettaglio esattamente di cosa si tratta? Allora, l'implantologia è quella branca dell'odontiatria che si occupa dell'inserimento e della gestione degli impianti. Cosa sono gli impianti? Gli impianti sono presente quando metto dei denti... Cosa sono gli impianti? Perché il titanio? Non è un materiale di scelta a caso, perché il titanio ha un'altissima biocompatibilità con il nostro organismo che lo accetta e l'impianto quindi che fa viene fissato, viene osteointegrato dall'osso macellare o alveolare e ci permette di ripristinare la masticazione sia dal punto di vista funzionale che estetico. Chiaro, questa cosa della compatibilità è molto interessante perché poi uno va dal dentista non capendo in realtà quanto studio c'è dietro e quanto lavoro e poi come diciamo i nostri nonni non si smette mai di imparare. Allora, dottor Giordano, a che età deve essere fatta la prima visita secondo lei? Allora, subito, il prima possibile. Secondo le linee guida la prima visita odontoiatrica, pediatrica andrebbe eseguita al trentaseiesimo mese quindi a tre anni. Perché viene eseguita a tre anni? Perché a tre anni è praticamente completa l'eruzione dei denti da latte quindi sono presenti tutti e venti i denti da latte e quindi l'odontoiatra può fare una prima valutazione dell'occlusione dei denti valutare se all'interno del cavo orale ci sono delle carie e soprattutto valuta come viene effettuata l'igiene domiciliare e soprattutto è un momento di confronto anche con i genitori perché viene valutata anche la dieta del bambino quindi si valuta quant'è la quantità di zuccheri che magari il bambino ingerisce. Fermo mi ha aperto un mondo mi ha fermo mi ha aperto un mondo allora quindi è fondamentale oltre a fare prevenzione come vedete poi è tutto legato in realtà è fondamentale come ci ho detto giustamente uno fa una verifica trasversale qual è il mio stile di vita se fumo, cosa mangio ed è fondamentale nonostante tu stai andando dal dentista questo ti dimostra quanto poi è importante il vostro lavoro a proposito degli zuccheri che fanno? rovinano le gengive? cosa fanno esattamente? Il zucchero praticamente depositato sulle superfici dentali poi accumulato praticamente forma una sorta di corrosione e praticamente crea il cosiddetto processo detto in maniera spicciola poi facilita il processo carioso qualche domanda semplice semplice che sono curiosissimo allora lo spazzolino come lo devo utilizzare? lo spazzolino morbido o duro? allora diciamo che i denti scusi ma io chiedo mi informo allora i denti assolutamente non vanno lavati con la forza quindi si consiglia di solito uno spazzolino a setole morbide e i denti vanno lavati sempre in senso orizzontale quindi dall'alto verso il basso esatto noi quando facciamo una visita per spiegarci meglio diciamo dal rosa verso il bianco quindi in senso verticale in senso orizzontale e questa manovra siccome dietro è più o meno impossibile si fanno dei piccoli certi seconda domanda sempre sullo spazzolino uno spazzolino secondo lei bisogna fare piano abbiamo capito spazzolo normale o elettrico? qui come diceva giustamente prima il dottor Delli Figurelli potremmo aprire un mondo perché c'è chi è favorevole alla tecnica manuale e chi è favorevole alla tecnica dello spazzolino rotante personalmente io ritengo che se non si ha una buona tecnica manuale non si può passare alla tecnica rotante se si ha una buona tecnica dello spazzolino manuale si può passare alla tecnica rotante perché la grande maggioranza della popolazione pensa che con lo spazzolino elettrico ci si metta meno tempo questo non è assolutamente vero perché con lo spazzolino elettrico va puntato con una certa angolazione dente per dente quindi tecnicamente ci si mette di più torniamo per ordine allora più o meno i passaggi sono questi se non erro la prima mi sciacquo la bocca il filo interdentale si si sempre lo uso prima di lavare i denti prima prima di lavare i denti anche dopo ah è uguale è preferibile farlo dopo ok quindi dopo l'uso dello spazzolino il filo interdentale e dopo risciacquo un qualche disinfettante o inutile dopo si può utilizzare l'utilizzo di un colluttorio quindi è consigliato consigliato ah perfetto è giusto per capire perché poi come come stiamo vedendo in questa puntata si è fondamentale fare dei controlli però pure noi stessi ci dobbiamo mettere quel minimo di impegno per preservare la nostra bocca stiamo parlando prima degli impianti e io leggo una parola molto particolare il carico immediato cos'è un carico immediato? questo è un argomento molto di attualità però se mi permette volevo fare una piccola precisazione proprio in riferimento a quello che diceva il dottor Giordano sulla prevenzione e sulla corretta igiene orale perfetto sul mantenimento degli impianti oggi abbiamo veramente dalla letteratura scientifica scientifica internazionale di oltre un ventennio un successo del 98% degli impianti che però scende drasticamente all'85 in pazienti forti fumatori e in pazienti che non hanno una buona igiene orale questo era proprio per mettere un appunto un'ulteriore precisione parlando del carico immediato oggi questo è un argomento molto molto importante e molto dibattuto che su tutti purtroppo i social si legge di tutto e di più il carico immediato permette contestualmente all'inserimento dell'impianto anche l'inserimento del dente quindi con il ripristino immediato sia della funzione che dell'estetica quindi contestualmente contestualmente prima addirittura si faceva in 48 ore massimo 72 oggi con alcune tecniche oggi abbiamo fatto dei passi a gigante con la chirurgia con fidel guidata possiamo contestualmente proprio in poche ore far entrare il paziente senza dente e farlo uscire con i denti fissi per tutta l'arcata che questa mi perdoni mi perdoni è veramente tanta roba perché sicuramente anche voi da casa nel 90% dei casi andate dal dentista e vi mettono dei denti provvisori che un giorno si o un giorno pure poi si stacchano scusate però è così questo è un vantaggio enorme per i pazienti ad esempio che sono portatori di protesi totale o chi viene da lontano che deve fare chi lavora però attenzione alle false promesse perché prima di tutto deve essere fatta una curata di agnosi sia radiologica della quantità dell'osso e poi anche della qualità dell'osso perché possiamo trovarci di fronte a una qualità di osso diciamo scadente che non ci permette di avere una stabilità ideale necessaria per l'impianto che deve essere stabile in osso e privo di micromovimenti che possono interferire con la corretta guarigione dell'osso quindi deve essere fatta prima una visita curata una diagnosi accurata e soprattutto bisogna capire se siamo in presenza di deficit anche dei tessuti molli perché questo può andare a beneficiare sia la protezione dell'impianto stesso perché i tessuti molli formano proprio una protezione intorno all'impianto e in alcuni pazienti dobbiamo invece ripristinare questi tessuti molli con alcuni tipi di interventi chirurgici specifici che non ci permettono magari di effettuare un carico immediato quindi ecco il consiglio che do è sempre attenzione alle false aspettative ma prima fare una curata di anni e mi perdoni questa specifica è assolutamente importante perché poi qua ragazzi scusate lo possiamo dire tranquillamente non è che vendiamo il fumo o non è che promettiamo la luna qui cerchiamo di parlare con i professionisti che gentilmente accettano il nostro invito e che ci danno perché anche io sto imparando di volta in volta ci danno delle direttive e delle specifiche che sono le specifiche del professionista quindi non del venditore di miracoli questo ci tengo a dirlo perché poi come voi sapete in questo ultimo periodo ci sono state una serie di nuove lauree che è la laura in mistificazione la laura in scienze confuse e la laura in tutologia che è la rete in qualche modo purtroppo e invece noi cerchiamo poi di andare dritti io ho una curiosità molto importante leggo e mi però mi incuriosisce i pazienti speciali chi sono i pazienti speciali per me che mi occupo di bambini e principalmente di bambini i bambini sono tutti speciali poi ci sono alcuni pazienti che sono più speciali di altri pazienti e quando si parla di pazienti speciali ci rivolgiamo principalmente ai pazienti che soffrono della sindrome di Down o pazienti autistici e questi naturalmente sono dei pazienti che hanno bisogno di cure e di attenzioni maggiori rispetto ad altri pazienti perché naturalmente hanno un problema di comunicazione con il proprio interlocutore e lì deve essere diciamo così l'odontoiatra in grado di creare un giusto approccio con il paziente e con le famiglie dei pazienti per poi guidarli nella corretta igiene orale domiciliare bisogna essere un po' psicologo lì bisogna essere un po' psicologi ma soprattutto bisogna essere predisposti e dedicare spesso quando si parla di bambini o di autismo o di sindrome di Down si tende a dire io sento dire molto spesso questa frase si perde un sacco di tempo ai bambini o ai pazienti speciali va dedicato il tempo che è un concetto completamente diverso ok quindi ci vogliono delle sedute di approccio affinché praticamente il bambino sia esso affetto da sindrome di Down o un bambino autistico si fidi del professionista e praticamente si riesca ad avere una maggiore collaborazione perché la collaborazione col paziente rende possibile poi al professionista di portare a termine la cura nel miglior tempo nel miglior modo possibile beh mi sembra una modalità assolutamente condivisibile anche perché quella cosa che ci ha detto no quel passaggio in cui uno deve portare il paziente speciale a fidarsi richiede tempo richiede tempo ed è fondamentale ed è fondamentale ma poi la fiducia permette in qualche modo di arrivare dove in realtà non potresti arrivare assolutamente quindi è un momento molto particolare all on four non è una squadra di basket non è non è qualcosa di particolare ma è una tecnica che ci spiegherà il dottor Figorelli altro argomento molto di attualità la tecnica all on four permette tramite il posizionamento di quattro impianti lungo tutto il perimetro dell'arcata dentaria di potervi fissare una protesi fissa così da ripristinare immediatamente quando è possibile con il carico immediato sia la funzione che l'estetica del paziente ed evitare specialmente importatori di protesi totali che sono molto scomode da portare possono dare decompressioni anche difficoltà nella masticazione a volte nella funazione e poi permettetemi di dirvi anche a livello sociale una maggior sicurezza con dei denti fissi e altra ulteriore indicazione appunto oltre ai pazienti portatori di protesi mobile anche nei pazienti in presenza di dentatura terminale in termini dentition dove purtroppo è necessario fare una bonifica e il paziente invece di passare tramite una protesi totale può tramite questa tecnica avere da subito dei denti fissi per tutta l'arcata ovviamente come abbiamo accennato prima sempre tramite una corretta diagnosi una corretta programmazione è chiaro chiaro ovviamente quattro impianti ci permettono anche di essere meno invasivi per il paziente e anche laddove abbiamo meno disponibilità di quantità di osso di ripristinare appunto tramite dei denti fissi un'arcata che prima fino a 15 anni fa c'era impossibile se non tramite delle ricostruzioni di osso fatte precedentemente con tempi molto più lunghi di terapia e trattamenti più invasivi allora vediamo a un punto importante perché là ci ha parlato di impianti però non esistono solo gli impianti esistono anche quelle che si chiamano in modo semplice le faccette le faccette mi dica se sbaglio le faccette sono delle cose che si applicano sopra al dente per una questione estetica o anche curativa domanda meravigliosa grazie allora intanto bisogna dire ai nostri telespettatori che sono le faccette sono dei restauri protesici di altissima qualità e sono le faccette dentali sono dei sottili gusci in ceramica che variano dallo spessore 0,3 0,6 attaccato sul dente a 0,1 che possono essere applicate con una tecnica minimamente invasiva ai nostri denti e grazie alle proprietà dei materiali ceramici che oggi abbiamo a disposizione che trasmettono la luce proprio come lo smalto del dente naturale ci permettono di avere dei risultati eccezionali e molto molto naturali e durano perché una delle domande che ci è venuta in redazione ci sono tantissime sapendo insomma che avremmo avuto qui due grandi dentisti però la domanda è questa se io metto le faccette non c'è rischio che magari durante una cena mi si stacca domanda molto molto pertinente la prima domanda che ci fanno i nostri pazienti ma dottore ma applicandole solo sulla superficie esterna ci staccheranno allora io voglio dirvi proprio posso dirvi tranquillamente no non si staccano ma a patto che il professionista che va a ripristinare la funzione e l'estetica tramite le faccette in ceramica deve aver ben chiaro che dobbiamo essere in presenza dobbiamo mantenere il maggior volume di smalto possibile tramite le tecniche preparazioni protesicamente guidate e oggi tramite l'uso di cementi resinosi a nostra disposizione ci permettono di avere veramente un'interfaccia restauro smalto di altissima qualità e oggi la letteratura scientifica ci dice che se facciamo tutto secondo i protocolli indicati durano senza saltare nessun passaggio durano oggi abbiamo casi a oltre 20 anni ma ci tengo a sottolineare che oltre a essere si restauri assolutamente estetici ma ci permettono di conservare l'integrità dei nostri denti che è tanta roba che è importante e infatti mi scusi aggiungendo questo che oltre a essere indolori oggi nell'80 90% dei casi non effettuiamo quasi mai l'anestesia e poi tra le altre cose ricordiamo che anche in questo caso voi entrate e uscite entrate con il dente magari brutto e uscite con il dente bello in poche sedute non diamo falsi in poche sedute in poche sedute ok a proposito di cose particolari qui leggo una problematica importante che è l'ipoplasia dello smalto ossia lo smalto del tempo purtroppo anche i denti come un po' tutto il resto del nostro corpo dato che li utilizziamo tantissimo poi ricordiamo l'importanza di questo apparato perché forse è uno di quelli che usiamo maggiormente cioè mastichiamo per la respirazione per parlare cioè è un apparato sollecitato continuamente allora l'ipoplasia innanzitutto cos'è e perché è importante diagnosticarla subito allora l'ipoplasia grazie per la domanda perché è molto molto pertinente in questo momento l'ipoplasia dello smalto è un difetto quantitativo e qualitativo della quantità di smalto contenuta nei denti quando ho le macchiette per capire quando c'è proprio la mancanza dello smalto si evidenzia una macchia più giallastra perché non c'è più praticamente lo smalto che la parte più chiara perché il dente è formato dallo smalto dalla dentina e dalla polpa lo smalto è quella parte più chiara quando si trova invece un dente più giallastro vuol dire che c'è una porzione minore di smalto e da che dipende questo allora una causa vera e propria ancora scientifica non ci sono delle ricerche scientifiche che attestino delle vere e proprie cause quindi mi perdoni non c'è tra niente quello hai bevuto poco latte da piccolo il calcio non c'è tra sicuramente correlata una mancanza un deficit di calcio ma è importantissimo che l'odontoiatra diagnostichi e intercetti subito sin da piccolo la problematica la problematica perché avendo l'ipoplasia dello smalto considerando che lo smalto per il dente è una barriera protettiva avendo un'ipoplasia dello smalto quindi avendo uno strato esterno in meno diciamo che il dente è più soggetto a fattori termici chimici e meccanici e soprattutto nei bambini che soffrono di questo tipo di patologia rimane complicato barra difficile lavare anche i denti perché lavando i denti con l'acqua fredda non riescono a detergere bene i denti e quindi quei denti che sono affetti dall'ipoplasia dello smalto sono denti più soggetti a essere poi successivamente a cariarsi più facilmente più deboli per usare un termine semplice è fondamentale che l'odontoiatra diagnostichi e intercetti e curi subito quel tipo di patologia beh questo mi sembra assolutamente importante ma ricordiamo sempre che poi la prevenzione è fondamentale ma le prime persone che possono in qualche modo aiutiamoci ad aiutarci ecco per usare un termine molto semplice siamo poi noi stessi cioè se io vado per esempio presso il Tiberia Hospital dal dottor Gianluca Delli Ficorelli che mi rimette proprio a posto completamente il mio apparato esco con un sorriso smagliante tipo gli attori americani per fare tanto ormai oggi abbiamo questi attori hanno tutti questi sorrisi fantastici ma sono le faccette? dipende dipende perché se il paziente ha una buona struttura dentale una buona forma dentale tramite l'ortodonzia oggi abbiamo a disposizione degli allineatori invisibili quindi anche per chi lavora come lei in tv può tranquillamente effettuare un trattamento ortodontico senza avere senza avere problemi a livello estetico e anche di fonazione e può tranquillamente sbiancando il dente che ho poi bisogna fare una valutazione se i denti hanno ancora una volta una posizione congrua una buona e una proporzione corrette tramite degli sbiancamenti selettivi professionali ripeto sempre rivolgiamoci ai professionisti tramite gli sbiancamenti possiamo ottenere dei risultati veramente eccellenti qualora poi siamo in presenza però da macchie come per esempio come ha detto prima il dottor Giordano da epoplasia da discromie forti resistenti agli sbiancamenti o da problemi di dimensione o di forma o anche da malposizionamenti che compromettono un po' l'estetica del nostro sorriso perché ricordiamo che il sorriso ha un impatto su tutto il volto non dobbiamo soffermarci solo al sorriso allora a quel punto possiamo ricorrere alle nostre meravigliose faccette che ripeto oltre a ripristinare l'estetica e la funzione ci permettono di conservare il 90% della struttura dei nostri denti quindi qualora anche dopo 20 anni dobbiamo reintervenire perché l'organismo dopo 20 anni purtroppo va incontro a modifiche sotto se abbiamo fatto tutto come da protocollo ritroviamo la nostra struttura dentale la domanda ci dobbiamo salutare perché a me il tempo è proprio una risposta velocissima quando io vengo da voi se devo fare dei trattamenti più complessi comunque spesso e volentieri utilizzo quella che è la sedazione cosciente allora la sedazione cosciente non viene utilizzata solamente per trattamenti lunghi la sedazione cosciente con il protossio d'azoto è una tecnica di sedo analgesia dove viene utilizzato una sedation machine che miscela due sostanze che sono l'ossigeno e il protossio d'azoto ed è una tecnica di sedo analgesia come dicevo prima che viene utilizzata soprattutto in pazienti odontofobici o in pazienti speciali o alle volte quando c'è bisogno di una terapia abbastanza lunga per far stare più tranquillo il paziente o in pazienti cioè qualcosa che funziona che viene utilizzato quando serve sì è una tecnica assurda io vi devo salutare perdonatevi ma il tempo tiranno ringrazio il dottor Gianluca Telli Ficorelli del Tiberi Hospital grazie è stato molto interessante scoprire questo mondo il nostro sorriso quante cose dietro ringrazio il dottor Lino Giordano grazie l'appuntamento con Terzo Millennio torna immancabilmente domani passate una buona serata ciao ciao grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tiberia Hospital, ospedale polispecialistico privato, accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale. Tecnologie diagnostiche di ultima generazione e a misura di paziente. Breast Center, per la diagnosi e terapia del tumore al seno. Chirurgia generale mini-invasiva per un rapido recupero. E Dental Unit, la sicurezza dell'odontoiatria in ospedale. Tiberia Hospital, per un approccio completo alla salute, al servizio di ogni persona.